playboy abbandona il tugurio playboy ciao è uscito playboy è uscito ciao relitto ok ora voi potete uscire fuori linus vai vai lascia stare che devo pulire linus linus ok ora vengo e playboy abbandona il tugurio yeah playboy relitto mamma come è ridotto sto gatto almeno se deve morire muore libero visto che è tanto c'è niente playboy è felice playboy guardate che è magro pieno di nodi che non si fa pettinare snodare non c'è terapia che tiene questo gatto che ormai è arrivato bello playboy libero ti facevi cacciare almeno i nodi scheletro spesa due chili e mezzo ma non c'è niente da fare con sto gatto perché solo da sedato gli si possono fare le cose sotto il retino è limitato l'aiuto che si riesce a dare con tutto che mangia gastrointestinal fa diarrea da ieri non mangiava più niente spesa